Sono arrivati a Palazzo San Giacomo 8 dei 25 minori non accompagnati sbarcati oggi nel porto di Napoli dalla nave della Marina Militare Comandante Foscari. I ragazzi, stanchi e provati dal lungo viaggio, sono stati accolti dall'assessore al welfare Roberta Gaeta ed accompagnati in sala giunta e in attesa che arrivino in giornata i responsabili delle comunità contattate dall'amministrazione. Verranno accolti nelle comunità di accoglienza previsti nell'ambito dello SPRAR nazionale, quindi un sistema nazionale di accoglienza in parte e in parte invece nelle comunità di accoglienza del circuito con cui il lavoro è il comune di Napoli, quindi strutture convenzionate, strutture conosciute dove noi possiamo chiaramente monitorare i percorsi che poi andremo a fare nel tempo. La necessità anche di individuare posti disponibili ci costringe a volte anche a dividerli, però riusciremo in qualche maniera a far tenere contatti fra le comunità, anche perché restano in carico ai servizi sociali del comune di Napoli, quindi questa è una garanzia rispetto anche ai percorsi che poi andremo a fare. Grazie.